Sai cosa sono gli strumenti derivati? Ne hai mai sentito parlare? Se ti ricordano comunque vicende brutte, scandali bancari, fallimenti di società, eccetera, 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 in questo video cerco di darti piccole nozioni sui principali strumenti derivati, partendo dai contratti a termine, più comunemente chiamati future. Ciao, sono Simone dal 2011 a fianco persone, manager, professionisti e imprenditori come te che desiderano essere seguiti sia nelle principali scelte finanziarie strategiche aziendali, sia nella pianificazione finanziaria personale. Ti seguo di persone tramite video call anche offrendoti dei programmi di consapevolezza finanziaria. I contratti derivati sono strumenti da cui quotazione deriva dal valore attribuito ad una variabile sottostante chiamato underlying asset. Le variabili possono essere rappresentate da beni, commodities o da attività finanziarie. Il contratto a termine è quel contratto tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di sottostante, attività finanziarie o merci, ad un prezzo e ad una data prefissati. Facciamo un esempio molto semplice. Immagina due aziende, un'azienda che produce acciaio e l'altra che lo lavora, e considerando l'elevata volatilità del prezzo dell'acciaio, un'azienda decide di acquistarlo per eseguire le proprie lavorazioni. Le aziende fissano il prezzo di consegna tra tre mesi per 1000 euro ogni tonnellata consegnata. Questo è un esempio di contratto derivato a termine. Dalle due controparti ce n'è una che guadagna e l'altra che perde. Se fra tre mesi il prezzo dell'acciaio aumentasse a 1300 euro a tonnellata, la parte venditrice otterrebbe una perdita perché si troverebbe a vendere a 1000 euro alla tonnellata della merce che ne varrebbe 1300. Viceversa otterrebbe un guadagno se il prezzo risultasse inferiore a 1000 euro a tonnellata. Stesso discorso per la parte acquirente. Un guadagno in caso di aumento del prezzo, poiché si porta a casa a 1000 euro la tonnellata, merce che ne vale 1300 euro e una perdita in caso di diminuzione del prezzo sotto i 1000 euro. Per questo tali contratti si definiscono simmetrici, ossia il guadagno di una parte controbilanciato dalla perdita dell'altro. Uno guadagna 100, l'altro perde 100 ed entrambi effettuano una prestazione a scadenza. Questi contratti a termine prendono il nome di forward se vengono negoziati al di fuori dei mercati regolamentati e di future se sono negoziati invece in mercati regolamentati e quindi standardizzati per dimensione, scadenza, oggetto e regole di negoziazione. Si evidenzia già una differenza. Nei forward esiste un rischio di controparte, ossia lo stato di insolvenza di una delle due parti può precludere la corretta liquidazione del contratto derivato. Essendo un rapporto bilaterale, se uno non effettua la prestazione, non c'è nessuno che interviene a liquidare il contratto. Viceversa, nel future esiste il sistema dei margini garantito dalla Cassa di Compensazione e Garanzia, ossia entrambe le controparti per garantire l'assolvibilità del contratto versano al momento della stipula un margine iniziale calcolato in percentuale sul valore nominale del contratto e che quindi definisce anche il livello di leva finanziaria insita nel contratto stesso e poi versano successivi margini di variazione a seconda di come si muove il valore della posizione in future, evitando quindi l'insolvenza del contratto, pagando in caso di inadempimenti della controparte per poi rivalersi su di loro. Ma attenzione comunque, anche le casse di compensazione e garanzia possono saltare per aria, soprattutto in momenti come in questi ultimi anni in cui i mercati, per poter attrare gli investitori e sapendo di vivere di commissioni di negoziazione, fanno a gara per abbassare i margini richiesti per accedere a tali strumenti. Se in un contratto forward le due parti si scambiano denaro contro merce e stipulano tale contratto per necessità di copertura del valore dell'attività sottostante, fissando un prezzo oggi ritenuto equo per entrambi fra tre mesi, evitando l'eccessiva volatilità dello strumento nel corso dell'anno, nei mercati regolamentati invece difficilmente si arriva alla scadenza del contratto future. In altre parole, l'acquirente o il venditore dei future uscirà dal mercato facendo un'operazione opposta a quella di apertura della posizione. Avendo l'obbligo alla prestazione, i contratti future vedono un vincitore e un perdente. Abbiamo parlato dei future e dei forward che sono presenti nei nostri mercati. Ricordiamo che tali strumenti possono essere inglobati anche in alcune strategie di investimento in fondi, comunque sempre per obiettivi o speculativi o di copertura. Se ti è piaciuto questo video mettimi un like, iscriviti al canale. Per essere condotti in un'adeguata pianificazione finanziaria per obiettivi ti invito a contattarmi. Trovi tutti i miei riferimenti qui sotto. Ciao, al prossimo video!